Da oggi è possibile effettuare l'iscrizione ai nidi comunali per le bambine e per i bambini. È molto importante che le bambine e i bambini abbiano l'opportunità di crescere in una situazione protetta attraverso esperienze che sono organizzate e proposte da esperti che hanno una visione chiara di quelli che sono gli obiettivi educativi. I primi mille giorni di vita sono fondamentali affinché i bambini facciano delle esperienze che consentono loro di acquisire delle abilità e delle capacità che rimangono poi nel tempo. È possibile effettuare l'iscrizione sulla piattaforma del comune utilizzando il proprio speed ma se ci fossero delle difficoltà nell'utilizzo dello speed o per qualsiasi altro motivo è possibile contattare direttamente le strutture presso le quali si vuole fare l'iscrizione e i genitori saranno aiutati nel compilare la domanda. Il tempo ultimo per effettuare l'iscrizione è il 9 di giugno quindi non dimenticatevi e anzi affrettatevi a effettuare l'iscrizione.